Buonasera e ben ritrovati a tutti a Friul Economy, saluto subito Elena Bezzutti qui al mio fianco per la conduzione di questa puntata. Buonasera e ben ritrovati. Allora, puntata di Friul Economy con il titolo Zico Austria, non siamo passati al calcio, anche se in questi giorni si è molto parlato del ritorno di Zico, anche Telefriulio ha seguito l'evento e la Francesca Spangaro ha raccolto diverse importanti interviste al campione brasiliano. Zico vuole essere in questo caso una metafora, la metafora è anche lo slogan dei friulani che volevano questo creativo, questo talento e così come molti imprenditori ovviamente vogliono poter fare impresa bene e ad avere un contesto, un ambiente economico che sia davvero anche loro di supporto e di aiuto, altrimenti come hanno fatto alcune imprese si va in Austria. E questa sera abbiamo diversi ospiti che vengono anche da questa terra a noi così vicina e li ringraziamo subito, li presentiamo, abbiamo avuto anche la fortuna di avere degli ospiti che parlano italiano e quindi aiutano tutti noi a poter dialogare, interagire. Vi ricordo poi il 57 35 17 per chiamare e il 347 145 42 42 per mandare i messaggini. Partiamo subito con un ospite che ha l'azienda in Austria ma è friulanissimo, parliamo di Enrico Boaretto della Claxon Mobility. Buonasera Boaretto. Buonasera. Buonasera e se può per cortesia raccontare un po' ai nostri ospiti di che cosa si occupa la sua azienda, da che cosa nasce l'intuizione imprenditoriale che c'è dietro. Sì, Claxon Mobility è il nome dell'azienda austriaca, si occupa di sviluppare, produrre e vendere ausili per la mobilità delle persone che utilizzano una carrozzina manuale. In questo caso abbiamo sviluppato un prodotto che aggiungendosi a una carrozzina, il nostro mezzo di movimento quotidiano ci dà una mobilità molto più agevolata per i lunghi percorsi, quindi con un motore elettrico, come si può vedere anche dalle immagini, riusciamo a percorrere più strada, ad affrontare salite, barriere, piccoli gradini, insomma la vita di ogni giorno. L'idea è stata quella non di realizzare l'ennesimo scooter, ma di aggiungere qualcosa di compatto anche con del design, almeno questo speriamo di aver fatto, proprio per dare maggiore autonomia alla vita di ogni giorno. L'impresa dove è ubicata? L'azienda è ora insediata presso il parco tecnologico di Fillac, dove appunto abbiamo avuto un supporto gratuito per 18 mesi, quindi lì stiamo ancora. Ecco, poi vedremo di vedere anche tutte le condizioni di contesto. Abbiamo qui con noi anche Michael Zwanchko della Babeg, l'agenzia carinziana di promozione degli investimenti e gestione di partecipazioni. Buonasera Zwanchko e se può spiegare sinteticamente ai nostri telespettatori che cos'è Babeg e di che cosa si occupa. Buonasera, allora la Babeg è la nuova agenzia di promozione della business location Carinzia, la Babeg è l'agenzia carinziana di promozione degli investimenti e gestione delle partecipazioni. La Babeg ha il compito di promuovere gli investimenti e di gestione delle partecipazioni strategiche per gli investimenti stranieri nella nostra regione di Carinzia. Quindi di fatto le imprese frulane e italiane che vogliono poi investire o trasferirsi in Austria passano tramite voi Zwanchko? Sì, noi abbiamo il compito di promuovere la business location Carinzia dal punto di vista strategico e mettiamo a disposizione tutte le informazioni necessarie che hanno bisogno gli imprenditori per valutare un progetto di internazionalizzazione in Carinzia o in Orca. Ecco, quindi questa sera anche i telespettatori franani che saranno interessati potranno ovviamente rivolgere fin da subito delle domande al signor Zwanchko. Altro ospite qui con noi è Hans Maliga, commercialista in Fillac, dello studio Kerten in Trojan. Buonasera Maliga. Buonasera, buonasera. Grazie. Noi abbiamo un studio fiscale a Fillac e a Klagenfurt. Siamo in totale circa 45 persone, così siamo abbastanza grandi per Fillac. Siamo più o meno un one stop shop per le ditte che si rivolgono a noi e proviamo di seguire le ditte dall'inizio fino a poi la revisione di un grande bilancio. Così siamo per Carinzia abbastanza grandi. Benissimo, ovviamente convolgeremo anche Maliga in tutti i nostri ragionamenti. Prego Elena. Benissimo. E poi abbiamo con noi Pierpaolo Terlizzi che è un commercialista Finpro in Udine. Di che cosa si occupa nello specifico e appunto secondo lei quali sono i problemi burocratici che ci sono adesso in Italia? Io rappresento la Finpro SPA che è una società che fornisce consulenza aziendale in termini fiscali e societari. Siamo un gruppo di 70 persone che fornisce costantemente aiute di imprese sotto vario tipo. Abbiamo costituito anche recentemente una società che si chiama Thrive con l'oggetto della finanza agevolata. Per quanto riguarda le problematiche burocraticche ce ne sono diverse, ce ne sono tante, parecchie. Sarà sicuramente un argomento da sviluppare nei prossimi... Benissimo, lo approfondiamo più tardi. Per finire Federico Gangi della Delta Aski. Che tipo di azienda è e soprattutto chi ci lavora? Persone molto giovani, vero? Delta Aski è una start-up innovativa fondata nel 2014 a Udine che da quattro soci fondatori oggi conta una ventina di collaboratori di cui 14 a tempo indeterminato divisi in reparto sviluppo, reparto marketing e reparto grafico e sviluppiamo soluzioni software per le imprese, applicazioni, facciamo ricerca e sviluppo. Siamo un'azienda che sta crescendo molto bene e abbiamo una sede a Udine per quanto riguarda lo sviluppo. Abbiamo creato un'associazione che si chiama Aski Brainery per l'educazione permanente per diffondere anche sul nostro territorio l'innovazione e quindi siamo contenti di lavorare qui. Benissimo, grazie. Per capire quali sono le differenze tra il sistema economico in Italia e in Austria abbiamo appunto un servizio dell'avvocato Michele Juss. Sta detto innanzitutto che l'Austria non è un paradiso fiscale e quindi non è una bassa tassazione a spingere i connazionali a provare interesse per questo paese ma piuttosto il fatto che si ritiene che l'Austria abbia un sistema di regole in particolare amministrative e fiscali semplificato rispetto al nostro. Si ritiene in sostanza che sia un paese in cui tutto funziona con un buon tessuto economico in cui appunto instaurare relazioni anche in vista di relazioni con l'estero. Come si fa a operare in Austria? I nostri connazionali possono sicuramente aprire sedi secondarie, possono aprire uffici di rappresentanza ma possono anche costituire o acquisire società. Il sistema societario è simile a quello nostro, possono esserci società di persone e società di capitali. Nelle società di capitali ricordiamo in particolare due figure che sono simili a quella della società per azioni e della società responsabilità limitata. Parlando di quella maggiore diffusione, credo che sia da ritenersi quella responsabilità limitata per fare un investimento nel paese, la società responsabilità limitata può essere costituita da uno o più soci come da noi, il capitale minimo è di 35 mila Euro, di cui 17 mila e 500 devono essere versati al lato costitutivo. I costi per la costituzione tra avvocati, consulenti etc. si aggira intorno al 10-20% del capitale. Il sistema di imposizione prevede una lipota circa del 25%, anche qualora la società non faccia utili e richiesta un'imposta che però è di 1700 Euro e può essere utilizzata come credito d'imposta per gli anni successivi. Da un punto di vista fiscale va detto che è possibile per gli italiani anche costituire la propria holding, ossia la capogruppo in Austria e questo porta dei vantaggi. Il primo vantaggio è dato dal fatto che l'Austria ha sottoscritto moltissime convenzioni sulle doppie imposizioni, ossia convenzioni che permettono di non essere passati qualora si operi in più paesi in luoghi diversi. Inoltre prevede il previso e legge di partecipazione internazionale e prevede una tassazione come capogruppo. Per quanto riguarda il lavoro sono previste 40 ore settimanali, in alcuni casi ridotte a 38 e possibile licenziamento per giusta causa. Ringraziamo l'Avvocato Jus per la collaborazione, ha tracciato diverse linee guida fra Austria e Italia. Allora, Buaretto, per quale ragione o per quali ragioni lei ha deciso di andare in Austria e fondare lì la sua start-up? Sì, c'è da dire che io non mi sono mosso con la mia vita e con la mia famiglia in Austria per questa start-up, ma quattro anni fa abbiamo deciso con la mia famiglia di provare un'avventura un po' all'estero, avere esperienze diverse, conoscere nuove persone, nuove lingue. Detto ciò, però, noi avevamo una società di consulenza che, ahimè, data la crisi che è arrivata dal 2009-2010 in Italia, ci ha purtroppo, come dire, spinto in questa scelta che comunque avremmo fatto da alcuni anni. Però lì ho trovato sicuramente un contesto molto favorevole, questa è stata la mia esperienza di volta. Quali sono gli aspetti, infatti, positivi di gestire un'attività in Austria? Guardi, io parlo spesso con il mio commercialista austriaco e dico sempre che il mio lavoro da imprenditore era nel centro del mio tempo, 20, 30, 40% dedicato agli aspetti burocratici o comunque alle regole, non regole, burocrazie, ritardi, che ne so io. Adesso questo tempo è il 90-95%, cioè io adesso faccio il mio lavoro, faccio l'imprenditore. Quindi questa è la differenza che vede fra Italia e Austria sostanzialmente? Sì, regole chiare, veloci, so sempre cosa è giusto fare, cosa bisogna fare. Spesso con il mio commercialista italiano non sapevamo se quello che dovevamo fare fosse in modo interpretato giusto, e questo è un bel problema per chi investe, lì non è così. Ecco, e quindi forti di questi aspetti positivi, Zuhansko, negli ultimi 5 anni quante aziende frulane italiane vi hanno contattato per trasferirsi in Austria? Diciamo, per dire un numero, è difficile di quantificarlo esattamente quante ditte vengono probabilmente, specialmente dalla Friulia o quante d'Italia. Noi di solito abbiamo in un anno circa 200 richieste che ci vengono fatte dalle ditte italiane, e diciamo dal 2012 fino al 2016 abbiamo seguito in totale 143 progetti di internazionalizzazione, di quali erano 80 progetti di ditte italiane. E le aziende vi contattano direttamente, vi trovano sul vostro sito e di fatto vi scrivono, giusto? Sì. E se dovesse dire molto sinteticamente per quale ragione le imprese frulane decidono di venire in Austria? Noi diciamo che le ditte che ci contattano cercano un ambientale orientato verso l'imprenditore, vogliono avere un ambito interessante dove possono sviluppare le sue idee imprenditoriali, e l'Austria e soprattutto la Carinzia offre un sistema molto interessante per gli imprenditori. Offriamo un parchetto di servizio con la nostra agenzia dove mettiamo a disposizione a costo zero tutte le informazioni necessarie che servono agli imprenditori per fare un business plan, fare una preparazione di un progetto di internazionalizzazione. e altre ragioni sono anche il sistema fiscale e il sistema legale. L'Austria è un paese molto stabile dove le cose non cambiano così veloce. Poi abbiamo a disposizione in Carinzia terreni a costo favorevole, terreni industriali a 100% urbanizzato che mettiamo a disposizione a investitori stranieri. Poi anche la flessibilità del diritto di lavoro in Austria è molto più flessibile in confronto ad altri paesi come per esempio l'Italia. L'Italia, certo. E quindi per parlare dei vantaggi fiscali delle imprese che vanno in Austria ne parliamo dopo la pubblicità. Francesca Spangaro giornalista e conduttrice da anni la domenica vive solo di calcio chiedetele cos'è un fuorigioco ma non in quanto tempo cuoce un nuovo sodo. Paolo Zoppolatti chef, ristoratore e volto televisivo tecnica, creatività e conoscenza del territorio i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta trasformare Francesca in una foodblogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca! Spendi bene, spendi il giusto all'arredo più di Gemona con la consulenza gratuita di un arredatore professionista direttamente a casa vostra e in più rilievo misure, supervalutazione e ritiro dei vostri vecchi mobili arredamenti made in Friuli con misure, tessuti e colori a vostra scelta la nostra falegnameria da più di 40 anni realizza i vostri sogni spendi bene e spendi il giusto chi vi dà di più? L'arredo più! Ci trovi a Gemona all'emisfero di Bonfalcone al Tiare Shopping di Villesse e al Città Fiera di Udine Domenica è sempre aperto orario continuato Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta 2000 metri quadri di salone espositivo un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale Zanutta, il tuo negozio Udine in viale X200 agevolazioni per acquisti e confinanziamento fino a 12 mesi a tasso zero nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto Direttro Shopping di Villesse agevolazioni per essere l'ultimo del mondo livelli utile us pero est Puntata di Friule Economy dedicata all'ambiente economico italiano e a quello austriaco e alle loro differenze. Ci aiuta Malliga, che è un commercialista oltre il confine austriaco, per spiegarci quali sono i principali vantaggi fiscali delle aziende che aprono in Austria. Io penso che uno dei punti più importanti è che in Austria il sistema di tassazione è un po' più semplice come in Italia, perché per esempio per le società capitali esiste solo un'imposta unitaria del 25%, non esiste una tassa tipo IRAP. Un altro punto importante è che il profitto civilistico e il profitto fiscale sono più o meno uguali e qui esistono davvero poche differenze. Così ci sono solo i prezzi di acquistare un automezzo o costi di rappresentanza, dove sono vere differenze, le altre cose sono più o meno simili. E soprattutto per gli start-up esiste un premio finanziario per costi di ricerca e sviluppo, dove il 12% di questi costi vengono restituiti dalla finanza direttamente e questo premio anche non è tassato. All'altra parte se cambiamo le persone fisiche, qui abbiamo un tasso progressivo di tassazione, un percentuale progressivo e i primi 11.000 euro non sono tassati e per imprenditori esiste un abbattimento forfettario del 13% che anche non è tassato. Questi sono più o meno, penso, i punti, i vantaggi fiscali. In Austria. Però in Austria ci sono anche dei punti di forza nella pubblica amministrazione, nella scuola. Nello specifico quali sono questi vantaggi che invece in Italia non ci sono? In Austria si può fare molte cose, sia fiscale, sia comunale o governale, via internet, così si non deve rispettare i tempi di apertura della ente pubblica e la comunicazione è abbastanza facile, è facile e veloce così. E quindi si riducono i tempi, insomma, soprattutto. Sì, sì. E c'è meno formalità. C'è meno formalità e si risparmia tempi. Come ha detto Enrico Boretto, le regole sono più chiare e se si rispetta le regole funziona. Quindi chiarezza e semplicità. Però Terlizzi, quali sono le differenze nell'imposizione fiscale, appunto per le imprese che hanno sede in Italia e per quelle che hanno sede in Austria? E prego anche un attimo la regia di mandare in onda la tabella, così possiamo vedere i dati proprio in maniera concreta. Grazie. Sì, ma in parte è già stato anticipato dal collega austriaco quella che è la fiscalità austriaca rispetto a quella italiana. Per quanto riguarda le imprese in particolare, a parte che stiamo parlando di due stati comunitari che hanno delle normative, sia per quanto riguarda le poste dirette che indirette, molto simili, addirittura sovrapponibili in certi casi. L'IVA, ad esempio la gestione dell'IVA, assomiglia molto. Sicuramente si nota una maggiore efficienza anche nella gestione del tributo e del credito o del credito di imposta. Noi lavoriamo molto con crediti e compensazioni. Ho notato che l'Austria invece rimborsa materialmente il denaro nelle casse delle aziende. E quindi questo forse invoglia di più le imprese, secondo lei? Sì, perché sicuramente denota una burocrazia fiscale molto più efficiente. Una macchina che lavora. Infatti un imprenditore italiano quanto tempo perde all'anno per seguire le carte? Un imprenditore italiano perde tanto tempo. È un fardello che si porta dietro giorno per giorno nella propria attività imprenditoriale. Una statistica riportata dalla CGA di Mestre, che ho letto recentemente, riportava una cifra impressionante. Si parla di 30 miliardi o 31 miliardi di euro l'anno sulle spalle degli imprenditori italiani in termini di costi inerenti alla burocrazia fiscale. Circa 7 mila euro ad impresa. 7 mila euro che potrebbero essere messi tranquillamente nel mercato produttivo, che garantirebbe, è stato calcolato virtualmente, 750 mila posti di lavoro in più, con un impatto sul PIL impressionante. Quindi, se andiamo magari a vedere un attimo la slide, la tabella numero 2, esattamente, lì ho voluto riportare quelle che sono gli addempimenti annuali di tre fattispecie che sono state prese a campione, come quella di un artigiano che svolge l'attività di impresa individuale, quindi sotto forma di unica persona che svolge l'attività, un'impresa, e la seconda fattispecie è il commerciante con 5 dipendenti, l'attività di commercio, e un'impiccola industria da 50 dipendenti. Poi vediamo che l'ultima colonna, che è molto interessante, suona un po' di beffa, perché nel 2016 abbiamo 26 addempimenti annuali, che sono proprio catalogati, per quanto riguarda l'artigiano, diventano 30 nel 2017, ben 74 per quanto riguarda il commerciante, diventano 78 nel 2017, e da 85 a 89 per la piccola industria. Abbiamo quindi un incremento alla faccia del decreto semplificazioni, che viene ogni anno. Quindi questo è probabilmente fatto per incoraggiare ancora di più le imprese a contattare la Babbe, che probabilmente... Sì, io voglio... sicuramente, non c'è dubbio. Perché gira in volta, sembra fatto apposta. Sì, sembra fatto apposta. Dirò di più, parlando proprio in termini di bloccazione fiscale, mi è venuto in mente proprio adesso che abbiamo anche a che fare con l'incertezza dell'interpretazione della normativa. In questi giorni c'è una scadenza mensile, vado nel tecnicismo a cerco di essere semplice, comunicazioni degli acquisti intracomunitari in termini di servizi o di beni acquistati. Il decreto semplificazioni lo toglie, lo toglie definitivamente. arriva un emendamento in Senato con i mille proroghe che lo rimette. Non è... dopo domani scade il 25, scade l'adempimento. L'emendamento non è stato ancora approvato dalla Camera, o forse oggi, ma penso proprio di no. Quindi il contribuente, dopo domani, non sa cosa fare. Non sa cosa deve fare. Non sa se sta nel giusto. Che cosa, in particolare, quali norme dovrebbero essere cambiate? Insomma, io non sono un legislatore, quindi però posso portare la mia esperienza. Sono purtroppo parecchi anni che lavoro e ho notato che sfruttando la digitalizzazione, il fisco ha aggravato tantissimo il contribuente in generale, persona fisica o imprenditore, di adempimenti. Adempimenti che servono ad incrociare i dati continuamente. E quindi stiamo lavorando sempre su un controllo dell'emerso. Non andiamo mai a cercare... Cioè, se fa difficoltà, siamo un po' perigri, andare a cercare quello che non è emerso, c'è il sommerso. Il sommerso. Quindi, io se potessi consigliare, ma ripeto, non sono per farlo, ma un'idea in mente ce l'avrei. Focalizziamoci su quello che deve essere, deve emergere e che non viene dichiarato e sgraviamo gli adempimenti molto spesso inutili che sono stati anche tolti perché lo stesso legislatore ha riconosciuto l'inutilità dell'adempimento e alleggeriamo questi imprenditori che devono impiegare il loro tempo a fare altro. Ecco, Gangi, Delta Aschi, ma alla fine a voi chi ve l'ha fatto fare di continuare a stare in Italia e perché avete deciso di rimanere in Friuli in Italia? Diciamo che siamo nati qui, quindi abbiamo preso, durante l'università, abbiamo scelto di, diciamo, sceglierci il futuro, di costruire qualcosa di vero e nostro. All'università a Udine. A Udine, Udine Trieste, insomma, diversi di noi, poi hanno, mentre studiavano appunto, hanno fatto impresa e gradualmente poi siamo cresciuti. Diciamo che amiamo la nostra terra, questo sicuramente. Dall'altro lato abbiamo avuto la fortuna di incontrare dei professionisti molto preparati e competenti che ci seguono costantemente, proprio nelle vicende, insomma, che prima descrivevano i vari ospiti, in particolare in Italia. E questo è stato molto importante. Ma vi siete mai domandati se vi conveniva a continuare a rimanere qua oppure di andare all'estero? Non necessariamente in Austria, mi dico anche che ne so, in California, in territori, diciamo così, più friendly per coloro i quali, come voi, afferiscono al settore informatico. Questo, certamente, è l'obiettivo, specie per questo tipo di impresa, è anche quello. Abbiamo colto la sfida di un territorio che, per quanto appunto ci è caro, è arretrato da un certo punto di vista, cioè anche dal punto di vista proprio del prodotto. Abbiamo fatto difficoltà a promuoverlo, a raccontarlo, no? Proprio la digitalizzazione della tecnologia è qualcosa un pochino di lontano ancora in Italia. Abbiamo avuto la fortuna di avere anche una legislazione che, negli anni in cui vi abbiamo aperto, si è adeguata lentamente, ma con una certa concretezza, dall'introduzione della startup innovativa che noi siamo, all'agevolazione e di contribuzione col Job Act, che ci ha permesso anche di crescere in maniera un po' più veloce. Abbiamo cercato di cogliere tutte le opportunità da garanzia giovani people, all'apprendistato, ai tirocini. Quindi queste forme di contrattualistica per il mercato del lavoro sono state utili per voi? Jobs Act e anche People e via discorrendo? Certamente e anche l'età media nostra, alla fine di quest'anno, se l'organico rimane tale, arriva a 26,2 anni. E quanta gente avete in organico? Sono 14 a tempo determinato, più ci sono adesso 2, 1, quasi un secondo per garanzia giovani, più ci sono dei tirocinanti e ci chiedono, abbiamo un sacco di curriculum, ci mandano un sacco di richieste. E la cosa positiva è anche che, per esempio, adesso è stato introdotto delle agevolazioni per l'assunzione di persone che hanno fatto garanzia giovani, noi cercheremo anche di valorizzare i tirocinanti. L'esperienza, certo, giustamente. Ma lei, Boaretto, invece, dal punto di vista della formazione, dei servizi, quindi parliamo anche, quando parliamo di formazione, chiaramente parliamo anche di scuola e università, che cosa ha visto di diverso in Austria rispetto all'Italia e magari anche di più, diciamo così, friendly per le imprese? Allora, io mi sono, diciamo, spostato in Austria, ero già abbastanza grande, con una figlia grande, quindi non sono molto esperto di sistemi scolastici, ho avuto un'esperienza di una figlia che ha fatto due anni di liceo. Devo dire però che, ecco, nella scelta, secondo me, dell'Austria non entrano solo le componenti, in generale, imprenditoriali o altro, ma anche le componenti della qualità della vita. Questa, ripeto, è sempre la mia esperienza, non parlo per gli altri, chiaramente. Quindi vuol dire anche una qualità della vita ambientale, un rispetto, anche, voglio dire, comunque della famiglia, ritmi molto più umani. Insomma, è un sistema che, se ci si trasferisce e si pagano le tasse, esattamente come in Italia, la pressione fiscale alla fine è quella, però, ecco, in generale, poi, la qualità della vita è veramente, dal mio punto di vista, molto, molto gradevole. Ma come mai è più alta lì, alla fine? Perché, non lo so, secondo me è un insieme di cose, è difficile descriverlo in poche parole. E non siamo, allora, innanzitutto c'è una cultura che non vede l'imprenditore, secondo me, in partenza, come ladro. E qui in Italia, purtroppo, un imprenditore parte per essere un ladro. Quindi è abbastanza rispettato. E i servizi sono a servizi del cittadino. Noi paghiamo le tasse, ma io quando chiamo per un'esigenza, c'è sempre qualcuno che risponde in tempi brevissimi. Io ho avuto un certificato per la mia disabilità in un giorno e mezzo, via posta. Se voi andate all'INAIL o all'INPS, qui in Italia, avere un certificato di disabilità in un giorno, io credo che nemmeno il direttore sanitario trova di scaldare. Cioè, ci sono certe cose che alla fine, l'assumatoria di queste cose, fanno la qualità della vita, anche per una persona come me, che ha delle esigenze in più, alla fine è più semplice. Mi sembra che l'esempio che ha fatto è quello che ha detto sia calzante. Torniamo per un'altra domanda, sempre con Boaretto, subito dopo la pubblicità, qui a Friuli Economy. Albo Serramenti Albo Serramenti, da 40 anni, produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite. Partner Internorm, concessionari a marchio Pirnar. Vi aspettiamo per scoprire la nostra promozione invernale, valida fino al 28 febbraio, presso gli showroom di San Giorgio di Nogaro e Udine. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta, 2000 metri quadri di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'area do bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, camminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio Udine, in Viale X200, agevolazioni per acquistico e finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero, nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Tothmania di Coseano, il luogo giusto dove sentirti a casa, bere una buona birra artigianale e mangiare cibo semplice e gustoso del nostro territorio, preparato con passione sullo spiedo o dalla nostra cucina. Anche a pranzo con i menù fissi. Ci trovate in via dell'Industria 30 a Coseano. Chiuso il lunedì. Scoprite le Friuli in alta risoluzione. Seguici sul canale 511 HD. Avete infissi vecchi? Non buttateli, non ci sono le guarnizioni. Non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro a energi, zanzariere, isolamento cassonetti, è tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con zanatta. Zanatta vetro e falegnameria zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Vedi male Telefriuli? Hai perso da poco il segnale? Contatta al numero 0432 18 21 510. Solo per voi telespettatori di Telefriuli, gli specialisti di Antenna Top faranno un intervento di assistenza a domicilio a un prezzo agevolato. Stavamo intervistando Boaretto sulla sua spedienza in Austria, di imprenditore in Austria. Boaretto, lei alla fine tra 10-15 anni si vede ancora in Austria a fare impresa oppure conta un giorno di tornare in fronte in Italia oppure andrà ancora altrove? E perché? 10-15 anni sono quasi in pensione. No, comunque a parte gli scherzi, io sono, e la mia famiglia, mia moglie, mia figlia, siamo un po' a giramondo, quindi io spero di non essere in Austria perché magari sono in un altro paese. Purtroppo non credo che sarò in Italia. Perché? Perché l'esperienza mi è servita, perché è anche interessante, il mondo è grande, quindi non c'è solo l'Austria, non c'è solo l'Italia. Mi permetto solo di dire una cosa, noi parliamo, e questo nella pausa parlavo con il mio collega imprenditore, parliamo di confini, di regioni, eccetera. Alla fine non dimentichiamoci che per essere buoni imprenditori dobbiamo avere intanto una buona azienda, indipendentemente da dove la collochiamo. L'importante è avere un buon prodotto, un buon servizio, fare bene azienda e poi competere in un ambito internazionale. Quindi per noi, sinceramente, oggi vendiamo il nostro click in tutto il mondo, abbiamo distributori davvero dalla Nuova Zelanda al Sud America, quindi voglio dire sì, è importante il contesto, è importante chi ci può dare una mano, però mi raccomando, se volete fare gli imprenditori, pensate prima alla vostra azienda e poi il mondo è grande e girate, che vale sempre la pena. Ben detto Boereta, anche perché lei giustamente, anche prima diceva correttamente, la fiscalità o resto contano fino a un certo punto, ma se l'azienda non riesce a stare in piedi, quindi a far profitti, non puoi pensare di recuperare su quello. È assolutamente così, nel medio e lungo periodo le aziende che purtroppo oggi non competono, ed è sempre più difficile competere oggi, perché l'ambito è davvero internazionale, siamo in competizione davvero con tutto il mondo oggi, con le nuove tecnologie. Quali sono, secondo lei, i primi due, tre fattori che fanno la differenza oggi, che le vengono in mente? Assolutamente la qualità, è un concetto magari un po' astratto, però vuol dire... Del prodotto? Del prodotto, ma anche, secondo me, dell'organizzazione aziendale, la capacità di rispondere in tempi molto veloci, di adeguarsi, di capire un po' anche e di anticipare il mercato. E questo, secondo lei, gli austriaci sono più avanti dei frulani? Come metodi organizzativi? Gli austriaci hanno... Allora, noi italiani abbiamo, secondo me, da un lato, dei vantaggi rispetto a certe altre culture, anglosassone o tedesche in questo caso, o germanofone. Abbiamo più fantasia, siamo più flessibili e più veloci. Però dall'altro canto loro, quando, almeno questo è un po' il mio parere, non è, insomma, poi si sbaglia, quando hanno un obiettivo lo perseguono in maniera molto focalizzata, molto sul punto. Bene. Allora, Zoansko, in futuro, come farete per attrarre ulteriormente aziende friulane e italiane in Austria? Allora, nel futuro, diciamo, uno dei nostri compiti è anche la gestione della partecipazione. Per esempio, la Pavec possiede anche partecipazione a società extrauniversitarie per dare più forza nella ricerca tecnica e innovazione nell'Austria meridoneale. E questa è proprio la nostra strategia di creare poli tecnologici e di fare investimenti in parchi tecnologici, centri di ricerca, società extrauniversitarie, proprio focalizzate su certi settori di microelettronica, robotica, sensorica, tutto quanto, e vogliamo portare avanti questa strategia. In più sviluppiamo anche parchi industriali dove mettiamo a disposizione i terreni disponibili per gli investitori che intendono di investire in Carinzia. Esistono anche imprese friulane e italiane che, dopo un'esperienza in Austria, hanno deciso poi di ritornare in Friuli. E se sì, perché sono tornate? In Friuli e in Italia, ovviamente. Sicuramente esistono anche aziende che sono ritornate, perché ci sono diversi esempi, ma diciamo un progetto di internazionalizzazione di solito inizia già con la progettazione. di meglio un imprenditore sta preparando questo progetto, di più alto è la quota del successo di questo progetto. Noi consigliamo sempre ai nostri imprenditori che vengono in Carinzia di essere presente anche lì, perché c'è sempre l'imprenditore che fa crescere un'azienda. Non funziona di venire in Carinzia aprendo una ditta senza essere presente e di sviluppare avanti all'idea imprenditoriale. Sul campo? Sul campo, sì. E poi esempi che ritornano può capitare, perché dipende da tanti fattori. Siamo ormai in un mondo internazionale, globale, dove sono tanti fattori che influenzano un progetto se diventa un successo o se non diventa un successo. Come aveva detto Boretto, certo, prima. E quindi perché un'azienda diventi un successo può anche soffrire dei vantaggi economici che ci sono in Austria, in particolare Malliga. Quali sono questi vantaggi? Io penso che vicino a questi temi che abbiamo già parlato, in Austria esiste un'infrastruttura molto bene che anche funziona e ci sono quasi mai dei scioperi in Austria, così si può affidare all'infrastruttura sia di trasporto sia di altre cose. Io penso anche molto spesso l'Austria è vista da imprenditori italiani, da locazione iniziale per andare in Germania, per andare nell'Est Europa. Io sentiero che molti imprenditori con questo motivo vengono in Austria. Quindi una tappa intermedia, insomma. Sì, sì. O una porta d'accesso per il centro-Est Europa. È una porta perché la lingua con la Germania è la stessa e anche le relazioni che l'Austria ha con l'Est Europa e anche la forte presenza delle banche austriache nell'Est Europa è un parte di questo. Certo, aiuta poi l'imprenditore nell'internazionalizzazione est. Tornando invece però al nostro Friuli, questi sono gli ultimi giorni per iscriversi a Start Cup del Friuli. E vediamo appunto l'intervista a Michele D'Acoll che ci racconta che cos'è questo concorso. Startup FWG è una business plan competition, ovvero un concorso, un bando tra idee di impresa e Startup a tema innovativo. Un modo per sostenere lo sviluppo e la crescita di progetti di nuova imprenditoria, giovane e non solo, in Friuli Venezia Giulia. In pratica, attraverso il sito www.startcupfwg.it, il proponente potrà indicare il proprio nome e cognome e quelli del proprio eventuale gruppo e la descrizione sintetica dell'idea progettuale. Idea progettuali che nei mesi successivi, sempre sul sito, dovrà essere caricata appunto nel business plan che la dettaglia. Il monte premi, grazie alla collaborazione di tanti soggetti, è di 112 mila euro, divisi in servizi di incubazione, mentoring, assistenza allo sviluppo e premi in denaro. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 28 febbraio 2017. Come nel 2015, anche quest'anno, Startcup FWG unisce quindi i tre Atenei regionali, Udine, Trieste e la Sissa, le compagini di tutte le territoriali dei gruppi giovani del Friuli Venezia Giulia, quindi i giovani imprenditori di Udine, i giovani imprenditori di Pordenone e quelli della Venezia Giulia. Unisce tutti i parchi scientifici e tecnologici regionali, quindi Area Science Park a Trieste, Friuli Innovazione a Udine, il polo tecnologico di Pordenone, Innova FWG ad Amaro, cui si è aggiunto quest'anno anche l'incubatore regionale, il BIC. Accanto a loro, per ampliare ancora il supporto e garantire sia il monte premi, ma anche lo sviluppo successivo delle iniziative, ci sono le due fondazioni di origine bancaria regionali, quindi la fondazione della Cassa di Risparmio di Udine-Pordenone, la fondazione CR Trieste e la federazione delle banche regionali BIC. Un importante sostegno viene anche dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha fortemente creduto in questo progetto. Lo sviluppo del progetto poi è reso possibile anche dalla collaborazione con tre grandi aziende del territorio, l'acciaierie Bertoli Safau, Electrolux Professional, ma anche Fincantieri. Di nuovo in diretta a Friuli Economy abbiamo una telefonata, buonasera, con chi stiamo parlando? Salve, buonasera, sono il dottor Chirici, salve. Io voglio far presente che c'è una differenza sostanziale tra il sistema italiano e quello ostiaco legato a una burocratia che oggi in Italia blocca in assoluto, se non hai una entratura in un circuito politico-stituzionale, blocca in assoluto delle idee di imprese che possono dare una svolta. Le faccio presente che io sono mediatore delle bike station network, un sistema integrato che a costo zero potrebbe tenere delle risposte sul territorio nelle piste, insistendo nelle piste cicliabili, con la concertazione delle società, di privati, che offrono dei servizi utili al turismo ciclistico, ai servizi legati al cicloturismo. OBB, austriaca, è contenta di questa situazione, il Comune di Unione. Quando io sono andato a presentare il progetto mi ha riferito che dovevamo fare un bando e quindi praticamente tutta questa innovazione poi si andava a vincolare a una procedura di bando pubblico dove l'innovazione, la novità, l'invenzione veniva a perdere quell'impulso importante che invece andava a essere curato. E questa è la differenza notevole, no? Sì. Cioè l'impresa italiana è legata alla burocrazia e neanche alla politica, alla burocrazia. Bene, abbiamo capito, la ringraziamo per questo intervento. Mi sembra che ne avessimo parlato già fin dall'inizio, fu proprio l'intervento di Boaretto a marcare la differenza appunto tra l'Italia e l'Austria e fra quando appunto si è ritrovato in Asta a gestire l'impresa era diminuito moltissimo il tempo dedicato alla parte burocratica, come poi ha confermato anche Malliga. A questo punto c'è Terlizzi che può spiegarci nel dettaglio quali sono le problematiche a livello anche di giustizia, di pubblica amministrazione e anche della scuola che ci sono in Italia. Se la regia può anche mandare in onda la terza slide. Grazie. Sì, questa è una bellissima classifica che prende a campione 23 stati dell'area Ocse. è bella per i paesi del nord e l'Austria è quasi sul poio, il quinto posto. Se scendiamo purtroppo in modo impietoso verso il 17esimo posto, arriviamo lì, siamo 17 su 23 in termini di efficienza della pubblica amministrazione. Efficienza è un indice dell'Unione Europea calcolato sulla corruzione, sull'imparzialità, ma anche sulla velocità, il grado di soddisfazione del soggetto che accede alla pubblica amministrazione. Siamo veramente malmessi e questo è il grosso problema del sistema paese. I contributi da adesso delle start up o cose, cerco di essere veloce, tagliano fuori la burocrazia. Se sono 13 miliardi stanziati nei prossimi anni sul piano industria 4.0, il Mise stesso dice che sono 13 miliardi se tu contribuente vorrai spenderli. Quindi sono azioni individuali degli imprenditori in termini di detrazioni, investimenti detassati e tutto quanto, ma che dovranno nascere su impulso dell'imprenditore. La burocrazia è tagliata fuori. Ma Gangi, quali prospettive per voi di Deltaschi? Andrete all'estero, rimanete qua e se rimanete qui, qual è il vostro obiettivo sia come organico di risorse umane che anche con il progetto di Kipol? Udine sicuramente è la sede principale e tale rimarrà in quanto storica. Abbiamo già diversi contatti, una sede a Milano per quanto riguarda l'Italia perché è lì che comunque arriva l'innovazione in Italia. Siamo partiti nel 2014, non ci siamo mai fermati e mai ci fermeremo nella logica di crescita, di diversificazione anche del prodotto tecnologico. Kipol... Non si sbilancia, non si sbilancia. Bene, siamo davvero in chiusura. Ringrazio Elena Bezzutti qui al mio fianco nella co-conduzione della puntata. Ringrazio gli ospiti che sono venuti questa sera dall'Austria. Allora Enrico Boaretto di Claxon Mobility, buonasera e grazie mille. Michael Zwansko della BABEC, l'agenzia carinziana di promozione degli investimenti e gestione e partecipazioni. Grazie mille Zwansko. E poi anche il commercialista dello studio Kerten & Troyhand, Hans Maliga. Grazie mille Maliga. E alla mia sinistra Pierpaolo Terlizzi, commercialista film pro in Udine e Federico Gangi della Delta Aschi. Continuate a vedere i programmi su Telefriuli, fra pochissimo community di Conf Cooperative e poi dopo l'interessante approfondimento social, elettroshock, a cura di Daniele Micheluzzi e Alessandra Salvatori. Buon proseguimento di serata. Ciao ciao. Ciao ciao.